Ciao Emilio, si dice che il mondo è dei giovani, direi che domani sera il Bologna è dei giovani, sarà molto dei giovani, quindi forse è l'ingrediente giusto per trovare quel coraggio che questa squadra ha sempre, ma domani sera ne servirà ancora di più per fare il risultato. Questi ragazzi sono pronti sicuramente, ne giocheranno tanti, crediamo, non ti chiediamo la formazione ovviamente. Ma io credo di sì, perché voglio dire che l'hanno dimostrato sino ad oggi di essere pronti, di essere sempre coinvolti in quello che noi abbiamo proposto, quindi chiaramente credo che ci sia stata anche una crescita graduale da un certo punto di vista, però anche abbastanza rapida e veloce da un altro di questi ragazzi, quindi siamo sicuramente tranquilli da quel punto di vista perché hanno dimostrato di avere sicuramente già le idee chiare, di aver acquisito anche una certa maturità sia all'interno del rettangolo di gioco, ma anche secondo me stanno crescendo tanto anche come persone, anche fuori dal campo, quindi noi sicuramente siamo tranquilli e sereni da quel punto di vista. E queste scelte un po' obbligate, anzi sicuramente obbligate davanti con l'infortunio dei due di Sansone e Santander, anche qui probabilmente daranno una prima maglia al titolare a Barro, come vedi l'ambientamento di questi ragazzi sui primi 20 giorni qui in questa nuova avventura? Ma oltre alle scelte che come al solito sapete bene le sciogliamo gli ultimi dubbi sempre alla fine perché francamente abbiamo anche altre soluzioni visto che abbiamo disponibili anche Svanberg, il quale potrebbe, nasce sapete bene anche come esterno offensivo, quindi potrebbe anche esserci questa soluzione diciamo così, però secondo me Musabarov sta crescendo bene, soprattutto noi lo vediamo già ben inserito all'interno dello spogliatoio, si è creato già un bel legame con i suoi compagni di squadra, è venuto a mio avviso avendo già una serie di conoscenze, e questo va dato atto sicuramente a Gasperini e alla precedente gestione all'Atalanta perché è un ragazzo sempre molto consapevole di quello che fa in campo, quindi anche da quel punto di vista ha dimostrato di essere molto recettivo a tutto quello che gli stiamo proponendo, sicuramente noi gli chiediamo, dovesse giocare da attaccante centrale o più sull'esterno, un lavoro comunque completo in entrambe le fasi, lui ci sta lavorando, chiaramente ha un'attitudine sicuramente più offensiva, però secondo me e secondo noi si sta mettendo ben a disposizione, vuole migliorare, è sempre attento a chiedere come dire qualsiasi tipo di dettaglio che può far migliorare la sua prestazione, quindi siamo sicuramente felici anche da quel punto di vista. Senti, nelle ultime settimane avete un po' spento i fari su Dominguez, è arrivato, sembrava dovesse essere il crack che arriva, poi insomma dopo un buon inizio a Torino e la prima maglia titolare, probabilmente l'avete fatto crescere un po' alla volta, come dire, a fare spenti, dopo queste due settimane a fare spenti come sta anche lui e se ritieni che abbia imparato bene anche quello che gli state chiedendo? Ma spenti i fari non lo so, nel senso che penso che più forse a livello mediatico di aspettative si siano abbassati leggermente i fari, mettiamola così, però dalla prospettiva nostra noi abbiamo conosciuto un ragazzo sicuramente eclettico, l'abbiamo definito perché riesce ad interpretare bene diverse posizioni a centrocampo e ha le idee subito chiare, l'avete visto anche a Torino appena è subentrato, quindi sicuramente noi sappiamo che lui diventerà una risorsa fondamentale per il nostro gruppo, credo anche che in questa partita sicuramente lui tornerà utile perché chiaramente ci sono una serie di defezioni, quindi dobbiamo indubbiamente trovare degli equilibri, ma ripeto, lui si sta mettendo, anche lui totalmente a disposizione, è chiaro che probabilmente ha bisogno anche lui di un percorso graduale di crescita, di miglioramento, è rientrato all'interno dei nostri ritmi anche di lavoro, di allenamenti che magari nelle prime settimane potevano essere assorbiti paradossalmente prima, poi successivamente ha dovuto riprendere un po' il nostro trend di lavoro, lo sta facendo, lo sta facendo bene, quindi voglio dire sicuramente un atleta che ci darà una grossa mano anche lui. Ecco, adesso che l'avete conosciuto anche un po' meglio, ci puoi indicare le sue caratteristiche più importanti, cioè nel senso noi praticamente l'abbiamo visto appunto quei 13 minuti a Torino, un po' di partita ma è stata difficile quella di Verona, perché era un po', ecco, voi che invece l'avete conosciuto, magari ci puoi dare uno spunto, anche se assomiglia a qualcuno già dei centrocampisti che avete in campo, se, insomma, oppure... Ma assomiglia non saprei dire, diciamo che se all'interno dei nostri centrocampisti ragioniamo su mediani, un po' più, come dire, geometrici e di regie, dall'altra parte giocatori un po' più bravi negli inserimenti, l'impressione al momento è che lui realmente sappia fare abbastanza bene, voglio dire entrambe le cose, quindi puntare solo su una piuttosto che su un'altra secondo me non sarebbe corretto, quindi noi cerchiamo di farlo sicuramente migliorare nei tempi di gioco, nella regia, in tutto ciò che significa avere personalità in mezzo al campo, giocare semplice, muovere il gioco, diciamo dettare i tempi, ma nello stesso tempo cerchiamo anche di, come dire, di accrescere la sua natura, che è quella anche di inserirsi, di arrivare a chiudere l'azione, di arrivare al rimorchio, di creare la superiorità numerica, quindi voglio dire un giocatore sicuramente completo, sul quale dobbiamo noi lavorare, ma lui sta, è totalmente anche lui a disposizione da quel punto di vista. Buongiorno Emilio, ti chiedo qualcosa sulla Roma, che non sta vivendo un momento scintillante della sua stagione, e al tempo stesso domani hai trovato una Roma che ha qualche uomo importante in meno, e non penso soprattutto al centro campo, dove insomma Pellegrini per loro è ago della bilancia, e lo stesso Diavara, visto prima l'infortunio, è un giocatore che a loro aveva determinato parecchio. E se temi anche un po' ovviamente la voglia di riscatto di una squadra che nell'ultimo periodo, rispetto alla fine del 2019, dove aveva fatto molto bene, non ha fatto benissimo. Io credo alcune cose, sicuramente la Roma è una grande squadra, ha fatto sicuramente degli innesti importanti, io non credo che la mancanza di determinati calciatori possa, come dire, spostare l'ago della bilancia, perché a mio avviso hanno una rosa talmente vasta, talmente completa e talmente di qualità, che riusciranno in qualche modo, voglio dire, a sopperire sicuramente. Credo semplicemente che noi dobbiamo concentrarci, come al solito, sulla nostra prestazione, noi, voglio dire, non parliamo, mi dicevi della Roma, sicuramente noi non parliamo delle nostre defezioni, ma semplicemente perché quello è un punto di forza nostro, del nostro gruppo, della nostra squadra, cioè concentrarci su ciò che ognuno di noi può fare sicuramente meglio, anche in mancanza di altri calciatori, anche in mancanza, tra virgolette, lo sapete, il nostro allenatore, eccetera. Quindi noi cerchiamo, sappiamo che sarà una partita dura, sappiamo che dovremo far ricorso a tutte le nostre risorse, in primissi forse anche la famosa resilienza, perché sappiamo che dovremo, come dire, assorbire determinati colpi, ci saranno momenti in cui la Roma farà gioco, sicuramente ci creerà delle difficoltà, però quella è la fase in cui noi dovremo dimostrare sicuramente il salto di qualità che abbiamo fatto in questi mesi, cioè non smarrirci mai, mantenere comunque sempre la nostra lucidità, il nostro assetto di gioco, per poi tornare alla nostra, diciamo così, disperata leggerezza, chiamiamola così, che è quello che ci sta un po', come dire, facendo fare il salto di qualità. Altra cosa, visto che abbiamo le rotazioni un po' accorciate davanti, senza Sansone e Santander, ti chiedo una cosa su Scovolsen, che in qualche ingresso è stato più o meno timido, ti chiedo se l'opzione Scovolsen a sinistra, che sia vista da Gemiglia, non con buoni risultati, è ancora praticabile, in caso di bisogno ovviamente, e se è praticabile anche quella di Scovolsen centra avanti. Ma io penso sinceramente che tutte siano praticabili, non credo che, voglio dire, in un momento di difficoltà o di particolari esigenze, Scovolsen poi non possa giocare sull'out sinistro, detto sinceramente. Però ripeto, come ho detto prima, può giocare Palassio esterno-sinistro, Barrovo può giocare centrale, può giocare Svanberg sicuramente a sinistra alto, Orsolini credo anche con l'Under 21 abbia giocato a sinistra, quindi potrebbe a quel punto giocare Scovolsen a destra, eccetera. Io credo che da quel punto di vista abbiamo sicuramente diverse soluzioni, quindi l'importante chiaramente è che chi giochi in quella posizione vada ad interpretare quelli che sono i nostri principi di gioco in entrambe le fasi, semplicemente quelli. Senti Emiglio, ti chiedo, Palassio che ha compiuto 38 anni, si può dire che sia anche un membro dello staff tecnico per il ruolo universale che svolge in questo Bologna? Ma io penso che tutti i calciatori che sono riusciti con il loro esempio, anche magari senza far troppo rumore come è stato per Rodrigo, mostrando tra virgolette forse una maggiore personalità come Zemaili, in qualche modo ci hanno sicuramente aiutato, ci hanno aiutato perché hanno, secondo me, tracciato anche un po' la strada nei confronti dei calciatori meno esperti, i calciatori più giovani, e l'hanno fatto, ripeto, con l'esempio concreto, nei fatti, quindi io penso che Rodrigo abbia fatto lo stesso. Non mi farei sentire troppo da Rodrigo a questo proposito, perché Rodrigo ci tiene ad essere un calciatore decisivo, determinante a tutti gli effetti, quindi magari lo spostiamo tra qualche anno questa situazione. Però al momento io dico che sicuramente lui ci sta dando una grossa mano, è sempre d'aiuto anche ai ragazzi più giovani nel dargli dei consigli, ma ripeto, soprattutto con il suo esempio, e questo penso sia la cosa più bella.